E' calma, e' calma. Dov'incenzo? 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 Dov'incenzo, una preghiera. Ah, venivate da me lì? Scusate, fa molto da fare. Parliamo a lungo, insomma, Don Vincenzo pare che sia disposto a... A che? Ad accedere. Accedere a chi? A potare a niente. Oh, quale onore! Troppo comodo, troppo comodo e troppo facile. Troppo comodo, troppo facile e troppo semplice. E potrei continuare. Ma Don Vincenzo, ma che cosa ti dico con tutte queste pittà? E' questo il sentimento...